Allora si raddoppia con gli eventi internazionali professionistici non solo Alps Tour quest'anno, nel mese di ottobre, ma anche Grand Final. Sì, l'avevamo detto, comunque c'era una sorpresa, la sorpresa comunque è arrivata perché comunque ci hanno assegnato il Grand Final, questo per premiarci l'impegno che abbiamo avuto, che abbiamo dimostrato comunque in questi due anni. Per me è una grande soddisfazione, la soddisfazione naturalmente per il gran lavoro che ha fatto tutto lo staff, il circolo, i soci, quindi diciamo che un applauso va a tutti. Grande sforzo anche organizzativo perché arriveranno da tutte le parti d'Europa i migliori golfisti del continente. Sì, un grande sforzo organizzativo, però comunque siamo diventati esperti, quindi diciamo che in questi due anni siamo riusciti ad avere la capacità di portare avanti questo importante evento. Facciamo il Grand Final, sicuramente impegnativo, da tutti i punti di vista, anche economici, ma qui devo dire che devo ringraziare in maniera particolare anche la regione Abruzzo, che comunque ci sostiene anche da questo punto di vista e quindi siamo pronti. Quando ti dicono Miglianico Golf Club esempio di gestione virtuosa nel mondo del golf, e questo te lo dice il presidente federale Chimenti, come è stato? Come ti senti? Io mi sento veramente contento, soddisfatto, perché comunque è un ringraziamento a tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. L'abbiamo fatto con molta attenzione, ma più che altro perché comunque amiamo questo tipo di attività, amiamo il territorio, amiamo la regione Abruzzo e vogliamo un certo qual senso attraverso il nostro campo far conoscere quello che è il nostro territorio un po' a livello nazionale e a livello europeo. Da questo punto di vista la federazione ci ha appoggiato, devo dire anche con grande fermezza, quindi comunque ci è vicino, ci è a fianco e quindi adesso siamo pronti anche per andare avanti, per lavorare anche su degli obiettivi ancora più importanti.